Operazione della Guardia di Finanza di Scafati in un'azienda di Sarno che si occupa di imbottigliamento e commercializzazione di olio d'oliva. Durante il controllo le fiamme gialle hanno rinvenuto una partita di prodotto che in base alla documentazione esibita doveva essere tutto extravergine. La gran parte delle due tonnellate di olio era ancora stipata in due silos industriali, mentre una partita di 200 litri era già confezionata in bottiglie con l'etichetta olio extravergine 100% italiano. La conferma dell'adulterazione è arrivata dall'esame di laboratorio effettuato dall'ufficio delle Dogane di Bari che ha anche segnalato la presenza di olio di semi superiore ai limiti posti dalla disciplina comunitaria di settore per poter etichettare come extravergine l'olio d'oliva. Immediato è scattato il sequestro del prodotto e la denuncia dei tre responsabili alla procura della Repubblica di Nocera Inferiore che ha convalidato la misura cautelare per impedire l'immissione in commercio dell'olio contaminato.